ciao sono paolo del salvapelle volevo farvi vedere un caso un po particolare su questo bmw 320 cabrio che mi è stato portato questa mattina che io dovrei lavorare e rimediare a quello che è successo ma vi faccio vedere subito il perché di questo mio mio caso particolare allora questo è quello che si è presentato all'arrivo dell'auto perciò vernice non idonea spessore enorme colore completamente sbagliato cioè questo è l'originale questo è quello che è stato dato perciò colore che non c'entra niente qui si vede molto bene con con sedile originale un colore più giallo più freddo più verdastro confronto alla pelle originale senza aver fatto riparazioni sotto perciò qui ci saranno delle crepe non riparate la vernice non aderito al supporto è molto plastica sembra che abbiano plastificato una vernice che non è da pelle una vernice che ne so per altri usi sicuramente si vede anche qualcosa nel sedile del passeggero nella spalletta magari meno evidente però la differenza di colore è ben evidente questa è meno brutta la vernice ha aderito forse ne hanno dato meno hanno c'erano meno danni non c'erano crepe non lo so comunque questa è meno brutta da vedere ma comunque indecente per quello che è il mio standard quello che dovrebbe essere lo standard poi quello che è successo in precedenza questa macchina non posso saperlo io mi do tre possibilità quella più non lo so quella che mi pinda a pensare che spero che sia che ho comprato un kit su internet il colore è simile sembrava uguale ma quando è arrivato era diverso il prodotto è questo è stato usato in eccesso troppa roba ma comunque anche se è fatto molto spessore questa non è una vernice per pelle questa è plastica praticamente perciò non potrà mai tenere la flessione delle dello spregamento della seduta che deve avere quando io la pigio sembra di avere non una pelle ma veramente un pezzo di plastica di gomma sotto le dita poi colore era questo sembrava uguale ma l'ho preso l'ho comprato l'ho applicato caso numero due me l'ha fatta mio cugino che bravo se ne intende è bravo a verniciare ha comprato la vernice in un permercato del fai da te ha preso quella per le tapparelle e ha verniciato il sedile questo è più uno scherzo che peraltro può essere un'altra cosa altrimenti spero che non sia questo che un presunto professionista abbia fatto un lavoro del genere perciò se è stato qualcuno che dice che fa il mio stesso lavoro l'ha fatto come come è capace di farlo ben venga alla fine vediamo cosa se possiamo dimostrare a questa persona che ha avuto questo trattamento da questo presunto professionista che il lavoro si poteva fare un pochino meglio comunque faremo i dovuti discorsi a lavoro finito le valutazioni le faremo dopo le farò le farete anche voi quando col video che girerò a fine lavoro e spero spero insomma direi che ce la faccio ci vorrà del tempo ma ce la farò a rimediare a questo a questo scenità vi terrò aggiornati sul risultato finale ciao ciao dai salvapelle lavoro estremo sul bmw 320 cabrio finito vi faccio vedere quello che sono riuscito a fare non più di tanto ma visto le condizioni in cui il sedile che adesso qui non vedete vedete già la parte finale un paio di foto che pubblicherò appena possibile di com'era il sedile sotto a quella vernici che sfogliava vabbè colore adesso tutto ok riportato a quello che è l'originale anche dal passeggero c'era quella macchia verdastra caso colore non idoneo questa spalletta sotto presentava due tagli passanti già riparati che ho ripreso al meglio per quello che potevo fare cuciture sono un po distrutte ma nello sfregamento del saliscendi anche perché non potevo fare diversamente non avevo scelta dovevo per forza recuperarlo questo è quello che mi è stato chiesto anche se ci vuole il tappeziere a cambiare il tutto mi sono accontentato di questo perché di più veramente era impossibile e direi che il cliente dovrebbe essere a posto questo è quanto questo succede probabilmente a causa di prodotti acquistati online colori sbagliati sotto addirittura c'era un giallo strano come primo colore e non penso che diciamo un professionista uno che fa il mio lavoro abbia fatto una cosa del genere impensabile perciò la vedo più come fatta da un privato per rimediare a danni esistenti per poter vendere l'auto comunque per renderla un pochino più decente ai suoi occhi acquistato qualcosa online colore approssimativo prodotti anche non idonei non c'era adesione al supporto si stava sfogliando spielando tutto perciò attenzione a quello che si fa insomma in queste cose insomma è giusto fare le cose fatte bene se uno ci tiene un po all'auto e noi siamo qua per questo ok alla prossima